Dopo le recenti polemiche scaturite sul nuovo stadio del Fano che secondo l'ipotetico progetto di Project Financing prevede la realizzazione di nuovi centri, spazi commerciali e uffici e dunque la possibilità di gravare secondo il presidente di Confcommercio sul tessuto economico locale, soprattutto quello del centro storico. In mattinata sulla questione è intervenuta la stampa anche la Lega presentando un'interrogazione urgente in consiglio comunale riguardo il progetto. Avete presentato un'interrogazione, che cosa rivendicate? Noi chiediamo sostanzialmente al sindaco Seri se fosse a conoscenza di una ipotetica richiesta di variante da parte di un privato per la realizzazione di un nuovo stadio per il Fano, perché qualora questa risposta fosse positiva riteniamo veramente grave che il sindaco non abbia assolutamente parlato innanzitutto con la città e con le associazioni di categoria, con chiaramente i commercianti del centro che in questo caso vedrebbero spostare il baricentro dal centro storico alla nuova zona sportiva, cittadella dello sport come la vogliamo chiamare. In più chiaramente si aprirebbe anche una questione più politica sul perché alcuni rappresentanti politici di altri partiti sono a conoscenza di un progetto, alcuni tifosi sono a conoscenza di un progetto, mentre gli organi istituzionali, perché abbiamo fatto anche un accesso agli atti da cui non risulterebbe nulla, sono totalmente all'oscuro di tutto. La Lega rivendica anche la possibilità di un'eventuale speculazione di Lizia, secondo il partito concedere l'ipotesi di un nuovo progetto non è opportuno, per il segretario sarebbe meglio recuperare le strutture sportive già esistenti, resta un nodo da sciogliere qualora dovesse verificarsi l'ipotesi di un nuovo stadio, la Lega si interroga anche sul futuro della nuova copertura della tribuna installata, altra questione invece riguarda l'occupazione del suolo e l'utilizzo territoriale. L'ipotetica operazione dà circa 6 ettari, questi sono chiaramente sempre numeri che noi apprendiamo dalla stampa perché non c'è nulla di concreto, che chiaramente vanno ad inserirsi in un contesto molto particolare perché poi lì a fianco è già stato individuato l'area per la realizzazione della nuova clinica privata, e quindi vediamo anche che non c'è una progettualità urbanistica dietro tutto questo, cosa che invece il sindaco Sieri e i suoi ci hanno promesso in campagna elettorale con il nuovo PRG.